civibank riscrive il modo di fare banca per mettere al centro le persone e il territorio per dare valore e proteggere l'autonomia per essere sostenibili tutti i giorni per questo civibank diventa società per azioni e società benefit riscriviamo il modo di fare banca prendiamoci cura del nostro futuro insieme civibank la banca per il nord est grazie